qui abbiamo invece credito varesino unione commercianti provincia di varese sono certi che sono veramente nuovi tenuti bene che sono quelli che hanno più valore chiaramente non sono quelli rovinati come io pensavo una volta cioè più sono rovinati più sono veri e quindi hanno circolato no non è così non è così per le banconote non è così per le monete non è così per per i mini assegni in questo caso